benvenuti ragazzi allora benvenuti in questo video sto pescando alla gomatese e sto provando la mia nuova canna della deglado della data allora la marca il modello e racing fight ed è alla colorazione camo che cosa vuol dire che alla mimetica guardate infatti ci sono i disegnini dei rami quindi si mimetizza con l'ambiente la lunghezza della canna è tre metri e molto flessibile molto comoda e si adatta per qualsiasi tipo di pesca io che cosa sto cercando di pescare il persico sto pescando ovviamente con il galleggiante il galleggiante da un grammo e mezzo bene ragazzi adesso abbasso l'archetto e se quindi peschiamo qualcosa vi mostro il risultato della pesca iscrivetevi al canale youtube e attivate le notifiche vi lascio i prodotti che utilizzo per pescare in descrizione video e anche se il canale quindi un canale di agricoltura dato che mi sto appassionando alla pesca nel tempo libero vi faccio questi video che riguardano la pesca e quindi e l'ambiente circostante ciao eccoci qua ragazzi la pesca al persico non è andata bene e ho preso le scardole quindi hanno abboccato le scardole ovviamente le rilascieremo adesso stanno all'interno della capaia tutti i prodotti che utilizzo per la pesca li trovate in descrizione video per la maggior parte io utilizzo prodotti declaton iscrivetevi iscrivetevi al canale youtube e attivate le notifiche ciao